Oggi giovedì 17 maggio andrà in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, mentre in contemporanea verrà. Registrata negli studi di Canale 5 e l'ultimo incontro, che sarà disponibile al pubblico negli ultimi giorni della prossima settimana. Le anticipazioni sulla messa in onda di oggi sono davvero scottanti perché riguardano non solo Gemma e Marco, ma anche un inaspettato ritorno sui suoi passi di Giorgio Manetti, video. Chi eravamo lasciati con Gemma Galgani impegnata nella frequentazione con Marco, il bel 57enne toscano che si è sempre detto molto preso dalla dama. Nella puntata di oggi vedremo una nuova esterna tra i due, nella quale Marco rinnova il suo interesse. Per Gemma, che sembra gradire molto e tra i due scattano di nuovo baci e diffusioni. La coppia parlerà proprio di questo nuovo incontro e della loro frequentazione. In studio ma è proprio a questo punto che scatta l'impensabile. Marco abbandona lo studio Gianni Sperti, che da qualche tempo a questa parte si dimostra molto dubbioso nei confronti di Giorgio Manetti, mette in luce il presunto fastidio che il cavaliere toscano proverebbe per questa nuova frequentazione di Gemma, sostenendo che Giorgio sia geloso non tanto della donna quanto piuttosto del fatto di non avere più tutte ai suoi piedi, compresa la dama torinese che fino a poco tempo fa sembrava ancora molto innamorata. Giorgio inizialmente sostiene che i fatti riportati da Gianni non siano veri. Ma in studio chiede un nuovo incontro chiarificatore con Gemma. A questo punto tutto è nelle mani della dama, Gemma accetta di vedersi con Giorgio. Ma perde Marco, che scocciato da questo suo atteggiamento lascia definitivamente lo studio. Interviene anche Maria, dicendo a Gemma che i suoi comportamenti non hanno coerenza. Un ritorno di fiamma? Quello che è accaduto durante l'incontro tra Gemma e Giorgio ancora non è saltato alla luce. Quello che appare è che i due sono ancora in qualche modo legati l'uno all'altra e che se Giorgio tornasse sui suoi passi, Gemma lo accoglierebbe a braccia aperte, nonostante la recente frequentazione con Marco che sembrava averle definitivamente tolto Giorgio dalla testa. Ci sarà il ritorno di fiamma tra i due ex innamorati? Per i fans della coppia. Che sono moltissimi, sarebbe davvero la conclusione ideale della stagione di uomini e donne. Non ci resta che attendere le anticipazioni sull'ultima registrazione di oggi pomeriggio.